Oggi prepariamo insieme i carciofi con la muddiga, cioè i carciofi ripieni con la molliga. Si tratta di una ricetta veramente semplicissima, il che rende questi carciofi un perfetto salvacena. Vediamo dunque come realizzarli. Oggi prepariamo insieme a un pollo, un pollo, un pollo, un pollo e un pollo. piccola nota nei carciofi con la muddiga ci va il prezzetto io non l'avevo quindi l'ho messo ma tu puoi tranquillamente aggiungerlo e poi ci va il prezzetto ti sia piaciuta se è così iscriviti attivando la campanellina tut regalami un like e condividilo sui social e noi ci vediamo presto con una nuova leccornia ciao 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 ciao